Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di serie B terza giornata Giornata interessante con tante belle partite, ne ho scelte 6 Però prima di dirvi le partite vi devo chiedere un pollice nel suo video Un'iscrizione al canale totalmente gratuita E mi raccomando lasciate un mi piace, 50 mi piace qua sotto E un'iscrizione anche al canale, non vi costa assolutamente nulla Noi partiamo subito col dirvi però quali sono le 6 partite che ho scelto da pronosticare in questa giornata Che comunque diciamo che sono tutte partite interessanti Ma queste secondo me sono le 6 più interessanti che sono Spal-Cagliari, Benevento-Frosinone, Pisa-Genoa, Como-Brescia, Modena-Ternana e Cittadella-Venezia Non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito, partiamo da Spal-Cagliari Spal che ha raccolto un punto in queste prime due partite Mentre un Cagliari ha raccolti 4 con la vittoria sofferta in rimonta contro il Cittadella nell'ultima giornata E vedo un Cagliari sicuramente favorito sulla carta Lo vedo anche meglio visto il tipo di vittoria che ha raggiunto contro il Cittadella Anche se comunque abbiamo avuto una Spal in crescita nell'ultima giornata Quella pareggiata 1-1 con l'Ascoli ma il mio pronostico è un 2 del Cagliari La seconda che ho scelto è Benevento-Frosinone Qui abbiamo due squadre che hanno iniziato il campionato totalmente in maniera diversa Da una parte Benevento ha quota un punto Quello sofferto e raccolto con i denti a Genoa contro Genoa Quindi Benevento ha quota un punto perché nella prima giornata ha perso col Cosenza D'altra parte troviamo un Frosinone a punteggio pieno, a quota 6 punti Un Frosinone che ha fatto due vittorie importantissime L'ultima, quella contro Brescia, è una vittoria super per 3-0 E quindi è un Frosinone che secondo me parte stra-favorito Nonostante il Benevento giochi in casa Anche perché Caserta si gioca prima di tutto il posto Perché credo che se dovesse perdere contro il Frosinone difficilmente verrà confermato E lì poi in pole position c'è Daniele De Rossi Appunto per questo, per tanti fattori, bene il Frosinone favorito Vi dico due del Frosinone Anche se comunque ci sarà da battagliare per la squadra di Grosso Andiamo avanti con Pisa-Genoa E questo è un big match Questo è un big match anche se il Pisa ha iniziato male Con un punto in due partite Il pareggio, quello arrivato in extremis contro il Como Comunque ha dato un minimo di morale Una squadra che deve molto registrare la fase difensiva Fa tanti buchi dietro, fa tanta acqua Possiamo dire, dall'altra parte si trova un Genoa Che innanzitutto è scatenato sul mercato Perché ieri 23 agosto ha messo dentro Strootman, Aramu e Pushkas Tre giocatori di livello che in Serie B fanno la differenza Questo è poco ma sicuro Per appunto per un Genoa con quattro punti Che non è riuscito a vincere la sua seconda partita Quella pareggiata 0-0 contro il Benevento in casa Giocherà fuori casa, questo può essere un fattore interessante Però credo che il Genoa parte favorito Mi voglio tenere un po' più soft Vi dico X2 o pareggio o vittoria del Genoa Como Brescia Como Brescia è una grande partita Una grande partita Il Brescia che si deve riscattare dopo la sconfitta per 3-0 Contro il Frosinone Non giocando praticamente niente Facendo una prestazione orrenda Dall'altra parte abbiamo un Como invece che Ha raccoltosi solo due punti Ma sono due punti raccolti con tanta prestazione Ecco vedo un Como totalmente in crescita Che gli manca ancora quel pizzico, il passetto in più Per trovare la prima vittoria Perché è una squadra che gioca bene Dietro fa un po' di fatica Però vedo una squadra totalmente in crescita E quindi anche qui è difficile fare un pronostico Perché sono due squadre che vanno alla ricerca Un minimo del riscatto Il Como per trovare la prima vittoria Il Brescia per riscattarsi dalla sconfitta orrenda Contro il Frosinone Il mio pronostico è un 1x O pareggio o vittoria del Como Penultima partita Modena per Nana Grande gara Grandissima gara Nonostante il Modena abbia 0 punti Per le sconfitte contro il Cosenza E quella è la prima giornata Contro il Frosinone Vedo un Modena che comunque può tentare di raccogliere forse qualcosa Non si sa Perché la Ternana comunque è una buona squadra Ha vinto una partita di cuore Di sofferenza Contro Contro l'ultima giornata Contro la regina in casa Però in casa del Modena può succedere di tutto Io vi dico gol Non vedo una favorita Vi dico gol Che segnano entrambe le squadre Tra Modena e Ternana Come risolto più probabile Vi potrei dire un pareggio Cittadella Venezia è l'ultima gara che ho scelto Quattro Cittadella e Venezia Vi dico anche qui Un bel pareggio Un X Non vedo nessuna delle due favorite Un Cittadella a tre punti Un Venezia a tre punti Che ha raccolto una vittoria in extremis Contro il Suttirol All'ultimo secondo Per un autogol di Curto Dall'altra parte Un Cittadella Sì che ha vinto la prima partita Con il Pisa a 4-3 In maniera un po' rocambolesca Causa qualche errore arbitrale A favore Però diciamo che nella seconda partita Ha fatto molto bene per 60 minuti Col Cagliari Ma è poi andato molto molto a scendere Ed è arrivata una sconfitta Un po' amara Per questo vi dico pareggio Tra Cittadella e Venezia Pollice del suo video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi Ciao